Come si può vedere dalle magliette, siamo con due zagoriani, da quanto tempo leggi Zagor? Ho imparato a leggere su Zagor, ho quasi 50 anni e sono nato con lui, ho cresciuto con lui da sempre. Per due giorni in 100 sale italiane è stato proiettato Noi Zagor, il docufilm dedicato allo spirito con la scure il celebre eroe dei fumetti da oltre 50 anni in edicola. Prato è un suo cinema, il terminale non potevano mancare all'appuntamento perché Pratese è il regista del lungometraggio che svela attraverso interviste agli autori, ai disegnatori e agli zagoriani sparsi in tutta Italia il segreto del successo di questo amatissimo personaggio di carta. È stata una bella avventura, un bel viaggio a Darkwood, nel mondo del fumetto, più che altro nel mondo della Bonelli questa grande casa editrice che sforma questi personaggi che ci hanno riempito le giornate da giovani e non solo quindi è stato un bel viaggio, una bella esperienza. Ieri sera alla proiezione insieme al regista erano presenti alcuni autori della serie, critici ed esperti di fumetto e naturalmente i tanti e affezionati zagoriani pratesi. È un personaggio che perde, che sa anche perdere, che accetta le diversità, che è molto moderno nonostante appunto i 50 anni. Il fatto di avere una spalla comica come Cico, che è quello che porge la battuta e che in certi casi è quasi il protagonista è il pippo della situazione, questo è un mix che funziona molto. Grazie a tutti!